Allora noi partiamo da un articolo fatto da un quotidiano romano del 15 settembre dove si evidenziava c'era Piazza Venezia e l'aiuole di serie B, si diceva c'è la grande aiuola al centro di Piazza Venezia che è sempre curata, ci sono queste aiuole che invece sono lasciate abbandonate o non sono adeguatamente curate. Certamente noi siamo sempre molto attenti alle sollecitazioni, però questo era un progetto che già da tempo l'assessorato provava e che finalmente è stato portato a compimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.